Un intero piano della scuola Itis Fermi di Lucca è stato evacuato per una perdita di ammoniaca nel laboratorio di chimica. 85 persone in tutto, tra studenti e insegnanti, hanno dovuto lasciare l'edificio. L'allarme è scattato intorno alle 12 quando un professore e uno studente hanno iniziato ad avvertire bruciore agli occhi e sono stati portati all'ospedale San Luca per accertamenti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con il personale specializzato del nucleo contrasto rischio nucleare biologico-chimico-radiologico e una squadra con l'autopompa serbatoio. I pompieri hanno riscontrato la presenza di vapori di ammonio nell'aria. Le cause della perdita della sostanza pericolosa sono in corso di accertamento. Intanto, a titolo precauzionale, è stato interdetto l'utilizzo del laboratorio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.